Andiamo a vedere una breaking news curiosa capitata nelle ultime ore. Il parroco rifiuta di concedere il campo alle ragazze. La comunità non è pronta. Sta facendo scalpore la vicenda accaduta a Meolo, paesino in provincia di Venezia, che vede il rifiuto del parroco di concedere il campo parrocchiare alla squadra femminile di calcio dell'Under 15, giustificando la sua decisione affermando che la comunità non è pronta ad accettare una squadra femminile sul campo di calcio della parrocchia. La società sportiva di Meolo aveva avanzato la richiesta di utilizzare il campo parrocchiale già all'inizio di agosto per permettere alle ragazze dell'Under 15 di allenarsi e giocare la partita della domenica mattina. Tuttavia non era arrivata alcuna risposta. Solo nei giorni scorsi è giunta la comunicazione di Don Roberto Mistorigo, che però ha deluso le aspettative. Dopo nostra insistenza, spiegano la custode e l'allenatore, il parroco ha incontrato la presidente della società e la coordinatore della squadra, informandoli in pochi minuti della sua decisione di negare l'uso del campo, motivandola con l'impreparazione della comunità. A voi le risposte nei commenti. Giusta la decisione della parroco di non concedere il campo alle ragazze oppure no? Scrivete nei commenti. Continuate a seguire Bruno Pizzulla The Voice per altre notizie curiose. Ed è tutto molto bello.